ciao ragazzi siamo all'aperto vi faccio la recensione del mezzo m2 notte questa è l'interfaccia principale come vedi vediamo un attimo sopra c'è il jack audio questo piccolino questo buco piccolino è il microfono dietro abbiamo una fotocamera da 13 megapixel con doppia flash led come puoi vedere sotto abbiamo il secondo microfono ovvero il primo microfono principale l'attacco per usb ovviamente sia per dati che per ricaricare il telefono ed è anche otg e a destra abbiamo lo sto parlante di sistema questo qua che vedi questo è quello che sto parlando questo è l'attoparlante di sistema la schermo è un 5.5 full hd la velocità del telefono è piuttosto abbastanza veloce se non se non lo carichi troppe applicazioni ovviamente a 2 giga di ram e un octa core led di notifica come puoi vedere che stava anche lampeggiando in questo momento adesso è spinta però dal cellulare sembra che sia accesso invece è spinta questo scorrendo sul basso si hanno si hanno si vedono le notifiche insomma bussante centrale che serve un solo bussante centrale che serve per andare indietro andare avanti c'è tutto questo bussante centrale basta così